Bim, bum, bam! Tanta roba festival, PAS, festa del luppolo, bella la vita dell'universitario, è peccato per il 3 esamini nella sessone estiva, ovviamente sei fuori corso. 150.000 franc di tasse universitarie da pagare, bevi di meno, studia di più, te e fete al vivere del Michelas, magna bere un das PAS. Sali sul torrazzo e scopri di soffrire di vertigini, fuggi indietro, dove vuoi, ma senza oltrepassare la casella Ndom. Con che tipo di brodo viene servito il marubino? Se conosci la risposta puoi conservare questa carta e usarla, una sola volta per uscire gratis da Cade il Ferro. Gallina Vecial la fa bon brodo. Torneo di briscola al boccio drogo. Quest'anno hai un partner imbattibile, tu hai. Arrivati terzi, ritira 50.000 franc dalla banca. Sbazzo il carico! Oggi hai deciso di fare una passeggiata. Puoi scegliere se andare a piedi avanzando la tua pedina di 10 caselle, oppure prendere la radiale, pagando 40.000 franc e lasciando la tua pedina dov'è, su un tiatok. Un tuo amico dice che i marubini sono piacentini. Senza rispondere né salutare te ne vai. Vai al casella Ndom e ritira la ricompensa. Hai un amico in meno, ma 200.000 franc in più in tasca. Scherza mia, te vorrei neanche a veder. Per sbaglio hai imboccato via del Sare alle 5 di pomeriggio. Stai fermo e in coda un turno. Ia che do vale! Luglio. Cremona. 52 gradi percepiti e un tasso di umidità che ammazzano gli aspostati. Ti concedi una cremolata? La offre chi decidi tu. Incazza 10.000 franc dal malcapitato. Sai cosa disse un cremonese accaldato nel deserto? Le huacadiche spiagione. Mentre passeggi per il centro incontri mostri, come al solito gli compri tutto il mazzo di rose. Paga b.mila franc. Crepo la valessia.